Amici YouTube ben trovati, questa settimana i pronostici della Serie D con un grande ospite, un grandissimo giocatore, Roberto Pruzzo, un grande del passato, e mi accompagnerà per questi pronostici, Alba Longa L'Aquila X, Avezzano Rieti X, Città di Castello Arzachena 2, Flaminio Stiamare X, Muravera Trestina 1, Nuorese Monterosi 1, Torres Poligno 2, San Teodoro Latte Dolce 1, San Sepolcro Anun 6 1, iscrivetevi al canale ovviamente, grazie a Roberto Pruzzo per la compagnia, grande giocatore anche se di categorie superiori, iscrivetevi al canale, ciao ci vediamo su YouTube.